Ciao a tutti ragazzi! Allora, innanzitutto ringrazio Stanco per avermi mandato la GIF che vi ho appena fatto vedere e che poi alla fine di questo video riproporrò. Da questo piccolo estratto si evince che arriva Sommer prima sulla palla e quindi è il portiere dell'Inter che colpisce la palla prima di colpire poi la testa dell'attaccante della Fiorentina Anzola. E questo cambia tutto, in base alle immagini che erano state diffuse, probabilmente sapientemente, non lo so, di questo non posso essere sicuro, ma essendo in Italia pensare male spesso ci si azzecca, insomma, però in base alle immagini che erano state diffuse dalle televisioni principali e che probabilmente sono state utilizzate anche dagli addetti Vare che sono state poi mostrate sul monitor per far prendere la decisione all'arbitro, insomma, di concedere il calcio di rigore e sembrava tutt'altro. Domanda. Come mai? Come mai determinate immagini da altre angolazioni saltano fuori magicamente dopo? e quelle che si forniscono agli arbitri, che sono quelli che decidono, che spostano gli equilibri e che potenzialmente possono modificare e condizionare un risultato di una partita, di un campionato e quindi di conseguenza spostare molti soldi? Sappiamo benissimo che il calcio muove tanti denari. Come mai queste immagini, che poi vengono girate, vengono recuperate da privati, che le diffondono attraverso i social? Come mai queste immagini vengono diffuse dopo e non durante e non mentre? Come mai? Io ho commesso un errore perché mi sono state messe a disposizione, attraverso i canali ufficiali, delle immagini che non chiarivano e quindi ci si doveva fare comunque un'idea in base a delle immagini che erano molto poco chiare e da cui si poteva semplicemente intuire e si poteva pensare che il contatto potesse essere quasi contemporaneo, insomma. Invece dalla GIF che vi ho mostrato è evidente che Sommer arrivi prima e quindi il calcio di rigore non c'è. Il regolamento cambia perché le immagini determinano un'altra cosa che è stata invece decisa e che stava condizionando notevolmente la partita dell'Inter e probabilmente anche il conseguente prosieguo del campionato sempre dell'Inter ma soprattutto anche della squadra che insegue, in questo caso la Juventus. Ripeto la domanda, come mai ci possono essere delle immagini visto che gli stadi adesso sono pieni di telecamere, pieni letteralmente, che sono poi piazzate lì apposta per cercare di fornire più materiale video possibile agli arbitri per decidere in maniera corretta e più chiara e più onesta possibile determinate situazioni, come mai all'arbitro sovente vengono fornite immagini non dico manipolate ma condizionabili e che possono condizionare la decisione dell'arbitro che poi in qualche secondo non si può prendere mezz'ora l'arbitro per decidere ci sono pressioni, ci sono tempistiche e quindi se gli addetti al VAR ricevono o selezionano probabilmente determinate immagini come mai non si fornisce all'arbitro tutte le immagini possibili per prendere una decisione che sia il più onesta, equilibrata e non condizionante possibile? Domanda, io mi posso permettere di sbagliare, io sono nessuno non determino e non decido nulla io ogni tanto mi prendo la briga e la volontà di commentare determinate decisioni ma io non conto nulla loro sì, loro determinano quindi se è stato facile o relativamente comodo a un privato recuperare le immagini che vi ho mostrato e che vi rimostrerò com'è possibile com'è possibile che a chi deve decidere non vengono mostrate per tempo le stesse immagini o tutte le immagini che servono a dare una reale una reale e ripeto onesta decisione su episodi arbitrari che possono determinare determinare un evento sportivo perché? per quanto riguarda il resto chiedo scusa anche a chi per esempio ha in live ieri sera e anche nella giornata di oggi questa mattina specifica mi ha sottolineato guarda che ci sono delle immagini che effettivamente smentiscono quello che hai detto tu dici che arriva prima per esempio Zola e Sommer arriva dopo e quindi colpisce con un pugno sì perché io mi sono fatto fuorviare semplicemente perché avevo a disposizione queste immagini qua che sono poi le immagini che trovate ovunque quindi perché ovunque si trovano immagini di un certo tipo e le immagini che determinano una realtà diversa una realtà parallela è una realtà di fatti una verità diversa e che quindi certifica qualche cosa di completamente alternativo a quello che è stato deciso come mai mi domando io e non è la prima volta ripeto a pensare male spesso ci si azzecca soprattutto per quanto riguarda il calcio e soprattutto per quanto riguarda il calcio italiano in questo movimento corrotto ripeto chiedo scusa ora la mia il mio pensiero è completamente diverso ma perché ho avuto la possibilità grazie a un amico a un privato di poter visionare e di potermi fare un'idea alternativa in confronto a quella che mi potevo fare semplicemente perché mi erano state mostrate dai canali ufficiali sempre le stesse immagini ripeto sono presenti non so quante quante telecamere all'interno degli stadi di serie A perché quell'immagine che vi ho mostrato e che vi rimostrerò proviene da una telecamera all'interno dello stadio non è un privato che fa quelle immagini lì è una telecamera con uno zoom di un certo tipo e con una qualità video di un certo tipo giro questa domanda a voi io la risposta la so già ma è la stessa risposta alle stesse domande che ci siamo fatti noi interisti da anni però la rivolgo lo stesso a voi e sono curioso di sapere di sapere se magari avete una risposta diversa o alternativa a quella che noi comunque noi interisti sappiamo e conosciamo già ripeto grazie a Stanco per questo preziosissimo documento e da ora in poi prima di sentenziare o prima di farmi un'idea metterò sempre il beneficio del dubbio ancora di più in confronto a quello che ho sempre messo perché pensavo sinceramente che che si potesse fare a seguito di una concentrazione o comunque di un numero di telecamere che si era decisamente moltiplicato proprio a seguito di questo cambiamento in regime di VAR piuttosto che a seguito proprio della necessità di dare all'arbitro determinate determinate immagini un determinato numero di immagini per prendere delle decisioni corrette e invece evidentemente mi sbagliavo quindi da ora in poi avrò sicuramente più cercherò di essere un attimino più puntiglioso e meno deciso nelle mie valutazioni soprattutto per quanto riguarda un millesimo di secondo e un frame perché qui si tratta di frame al massimo nel 2023 i frame insomma possono realmente fare la differenza ripeto tra la vittoria di una partita e di conseguenza anche di un campionato che come ho anticipato prima sposta decine e decine di milioni di euro in un mondo che ovviamente probabilmente non vuole non vuole far vincere determinati determinati trofei a certe squadre preferisce magari farli vincere ad altre grazie grazie stanco grazie a tutti i ragazzi che mi hanno scritto e che mi hanno sensibilizzato e cercato magari di motivare nell'andare a cercare documenti video che effettivamente hanno smentito il mio commento e che hanno e che lo hanno alterato e quindi mi sono sentito in dovera di sottolineare a questo facendo un video un piccolo video dedicato grazie a tutti ragazzi buona giornata buon proseguimento forza inter sempre grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti i ragazzi